La Chiesa di Santa Maria Annunziata in Borgo è lieta di annunciare una messa solenne dedicata alla pace nel mondo, posta sotto la speciale protezione della Madonna dei Debitori. L'appuntamento è fissato per lunedì 24 giugno alle ore 18. Durante questa celebrazione, pregheremo per la concordia, l'armonia e la serenità tra le nazioni e i popoli. Invitiamo tutti coloro che desiderano un mondo più pacifico a unirsi a noi in questa preghiera. Vi aspettiamo numerosi a partecipare a questo momento di unità e riflessione. Per ulteriori informazioni, potete contattarci al numero di telefono 338 341 5053. Grazie per la vostra partecipazione e vi auguriamo una serena giornata. Persona con mani giunte colomba.